io non so perché ho scaricato ma volevo scaricare warning, boh non so cosa devo dire questo succede quando stai troppo su gamejolt a cercare giochi bellissima a tutti ragazzi, siamo su five night at ratrix boh ho trovato questa perla quindi dovevo giocare per forza mi incuriosiva bene ragazzi come al solito prima di iniziare questo video vi chiedo semplicemente di iscrivervi, attivare le notifiche e ovviamente anche di lasciare mi piace detto questo bella l'icona del ratrix theater benvenuto a ratrix theater, un nuovo locale che cerca un guardiano notturno per passare le notti, ogni settimana ti daremo lo sconto di 200 euro tondi tondi, e perché pollo attraverso la strada? ovvio perché sei stato programmato da una società di aspettarti di aspettarti una risposta divertente dovrebbe essere un horror dovrebbe ma perché? ti prego dimmi che l'hanno messo l'hanno messo dai madonna non riesco a puntare al naso aiuto! ciao a tutti e benvenuti se glono a scream io sono ratrix ma non ci credo ho messo ciao a tutti e benvenuti 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 ah beh bello cosa sto vedendo? oddio la reazione della reazione della reazione della reazione ma perché io sto giocando a questo? shock ok allora qua cosi è un'arte questo gioco è arte allora non poteva mettere qualche altro gioco proprio forte ah luce bello va bene allora se è l'acta moseca si è mosso si è mosso qualcosa aspetta oh buon sab ah proprio così scialla cioè nel senso dai shock e torna indietro vorrei far durare il video più di dieci minuti che poi io voglio vedere cioè non è che ci tengo a perdere però vorrei vedere jumpscare vabbè allora che ah non laggare madonna che laggata 4 di mattina ragazzi sei qui ah fuck ah che madonna cioè me la sono buttata cioè quindi devo soltanto fare attenzione al kirby io penso troppo a rick sanchez ho un kirby da tenere anche d'occhio quindi sicuro di cos'è Donation non lo so allora prima gli animatronici si sono iniziati a muovere alle 2 vi giuro che pompa un casino ma in teoria questo è un personaggio da dove vabbè qua la posso lasciare accesa la luce quindi insomma ok va bene allora io non ho capito come si deve fare per alimentare la batteria la batteria dove cazzo ok spiegami dove è la batteria e poi quella è una playstation 4 scusami eh dove da quando lei hanno le batterie oh ma buon salve no su cazzo vabbè qua è tutto ok non minchia se premevo esco e facevo un casino come tutte le volte lo sapevo che stavi fuori guarda me lo sentivo sono le 4 ci stavo per vedere porca p***a ci sono tutti tu vabbè ormai resta fisso là sono le 5 ok quindi intanto bisogna darla carica a kirby letteralmente oh ma buon salve è bello che questo gioco è abbastanza datito clickbait però faccio un dettaglio quando quando suona su è sciuto ho battuto radrix ah adesso posso caricarlo ok quindi mi sto facendo prendere dall'ansia per nulla è stato il gioco più bello della mia vita non so che cosa dire a questo punto grazie a tutti